Allora, questo è un momento un po' particolare perché andiamo a premiare delle bambine e dei bambini che dovevano salire sul podio per i loro bellissimi risultati che hanno ottenuto e che purtroppo per questo periodo un pochino strano, chiamiamolo così, non hanno avuto la possibilità di ricevere una coppa sopra il podio. E allora abbiamo pensato con SG di ripetere questo momento, anzi di farlo vivere a loro perché se lo meritano, con un grande applauso e con la presenza importantissima del nostro sindaco della palestra, un bello applauso per lei e l'assessore allo sport, Roberta Tellini. Siamo certi che è il primo di tanti tanti momenti belli che sicuramente andremo a vivere insieme. Quindi vi chiedo di scaldare molto bene le mani adesso che andremo a chiamare uno a uno i bambini che si sono distinti in questa premiazione, nel loro torneo, nelle loro gare di livello regionale e nazionale e premieranno direttamente il nostro sindaco e il nostro assessore Roberta Tellini. Sì, ok? Benissimo. Allora, seconda classificata al campionato, prima prova individuale LB3 di ginnastica artistica Beatrice Larghi. Allora, sali qua sul suo secondo gradino e ricevi la coppa. Altala, guarda lì. Ho chiesto un calore! Guarda lì, guarda lì. Bene. Vai. Bravissima. Tieni, anche questo. Questo è per te. Allora, prossima, sempre secondo gradino del podio per il campionato individuale LB3, Giorgia Scattolina. Leni Giorgia. Bravissima. Accomandati sul podio e premia il sindaco Michela Palestra. Tutta meritata, ma te la do solo se la metti in alto, in alto, in alto. Porta sul suo, è bravo! Bravissima. Adesso Facciamo un applauso a Sonia, la nostra responsabile, eh? La nostra responsabile SG. Grande. Allora, campionato individuale, Silver L3, categoria Junior, sempre seconda classificata, quindi secondo gradino del podio, Giorgia Pesare. Premio, assessore, Roberto Pellini. Complimenti. Brava, no! Minasca Coppa! Continua! Benito certificato. Bravissima. Complimenti. E adesso, campionato individuale Silver L3, categoria Junior 2, terza classificata, l'India Merlin. Asia. Scusami, ha giocato, ha giocato con il carattolo. Asia, bravissima, premia il sindaco, Michela Palestra. Grazie a tutti i complimenti e l'altro di questa coppa. Porta, 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 arriviamo! Brava Asia, vieni! E qui andiamo a la posizione numero 1. Campionessa, regionale, categoria allieve, Emma Di Blanca. Buonasera! Grazie a me, Emma! Premio all'assessore. Brava! Grazie a me, grazie a me, grazie a me, bravissima! Bravissima! Numero 1 in regione Lombardia, ragazzi! Brava! Tieni, tieni! Bravissima! Ok, va bene! Allora, abbiamo, quindi, in questo caso, quindi passiamo alla categoria maschile, abbiamo, è un applauso giusto, facciamo un applauso! che in aspetti qua sono spetticosi. Allora, io ne chiamo due, perché dovete sapere che SG Sport e Arese ha messo sul primo gradino e sul secondo gradino due nostri atleti. E quindi, prima voglio fare un complimento eccezionale alla nostra Rossana, che se lo merita tutto! e quindi chiamo Andrea Petruzzi, secondo classificato, quindi l'invito qua! Secondo gradino del podio, vediamo, ti do il pugnetto però, da te, vai, grande! e al primo posto, classificato campionato gold, prima prova maschile, Canzi Giona, primo classificato! Grande Giona! premiano quindi sia il sindaco che l'assessore! Grazie! Bravi, bravissimi! Bravissimi! Bravi, bravi, bravi! Forte, ma tutti che gioco la coppa! Grazie! Complimenti! Sono sui noti! Bravi, bravi! Bravi! Bravissimi! Potete scendere però, Io tengo qua Andrea Petruzzi, rimane qua mentre salutiamo Giona perché Andrea ha vinto, quindi ti chiedo solo di cambiare gradino, devi andare nella posizione numero uno perché si è classificato prima alla seconda prova gold. E quindi questa volta porta a casa il primo posto e premia sempre il sindaco che è la palestra. E adesso ritorniamo al campionato gold. Prima prova femminile, seconda, anzi passiamo dalla terza classificata e seconda classificata in realtà, Ginevra Facciolini, quindi viene Ginevra. Ginevra fa un percorso incredibile in Accademia, complimenti a chi batta da te un pugnetto, premia sia il sindaco che l'assessore. Una gamba da una parte e una gamba dall'altra. Bravissima! Brava! Complimati! Brava! E vai pure! Alissa è arrivata! Prima classificata, quindi chiudiamo con un podio, cioè la posizione migliore, quindi la prima posizione, che in questo caso equivale anche a essere campionessa regionale. E quindi abbiamo un'altra campionessa regionale, è Alissa Gario, condito qua a ritirare il premio. Brava Alissa, premio il sindaco in Piera. Grazie. Allora, ovviamente, l'ha testato, l'ha testato, mi è rimasto in mano. Questa è per te, bravissima. Allora, ovviamente, tutte le nostre atleti sono state meravigliose, anche quelle che non sono salite al podio, perché quelle che abbiamo chiamato oggi è perché non hanno potuto... Atleti ed atleti. E atleti, assolutamente. Mi corregge subito il sindaco, giusto, giusto, assolutamente. Perché siete stati veramente, veramente bravi tutti, tutti, e meritavate un'occasione come questa, speciale in SG. Quindi, bravissimi. Non so se, Michela, vuoi chiudere... Prima di una foto, quindi vi chiedo poi alla fine, una foto con tutti i premiati qua, insieme al sindaco e l'assessore, così facciamo una bella foto insieme. E ai vostri tecnici, e... Michela? Urlo, mi sentite? Perché il microfono non ce lo possiamo passare, quindi provate a ascoltare così. Sì, lo sport è una di quelle cose, ragazzi, che mette in campo passione, determinazione, capacità di raggiungere i risultati e imparare l'impegno e la disciplina, cosa vuol dire, nella vita. È un'occasione straordinaria di crescita. Complimenti a chi ha avuto oggi il riconoscimento, ma complimenti a tutti per essere qua oggi. Voi, e poi anche tutto lo staff tecnico, voi, la ginnastica, ma tutti, perché davvero lo sport è l'occasione per riuscire a rimotivarsi, impegnarsi anche in un momento così difficile. Quindi, bravissimi, e avanti così, non mollate, continuate con determinazione verso i vostri sogni. Grazie. La tengo anch'io, tanto sarò velocissima, oltre che a condividere i ringraziamenti e i complimenti che il sindaco vi ha fatto, ci teniamo a ringraziare anche le famiglie che hanno accompagnato tutti i ragazzi in questo anno così difficile, e tutta SG Sport, perché resistere in un momento come questo e riuscire a motivare e ad andare avanti, noi sappiamo bene che non è stato facile. Quindi, grazie davvero per quello che avete fatto, perché riuscire a mantenere la voglia di andare avanti nei ragazzi è veramente un compito che vi siete assunti estremamente importante. Grazie. Bravissimi. Allora, chiedo qua i premiati. Prima, una bella foto con i premiati, tutti qua al podio. Allora, chiedo qua.